Bella a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video Oggi siamo nel diciottesimo episodio di questo neocalendario Andiamo subito signori al nostro calendario per vedere la mappa di oggi Oggi mappa molto 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 interessante Andiamoci subito signori, prendiamo la girosfera, andiamo alla diciottesima casella Abbiamo quasi finito, eh raga, diciottesimo episodio Ne mancano dodici E non so perché mi cade la girosfera Allora, andiamo subito alla diciottesima casella Signori Che poi No, no, c'ero quasi riuscito C'ero quasi riuscito Non E questa no Ok, perfetto No, scherzavo Allora, devo arrivare lassù Ok, fare così Perfetto 78, 10, 36, 17, 06, 46 Questa raga è una mappa degli zombie Dovrei sparare agli zombie per vincere Mi raccomando raga, se provate, se ci riuscite a fare questa mappa Taccatemi su Instagram Un altro modo per essere tagliato sul mio Instagram È quello di inserire il supporto a un creatore RKCGT e un altro team nei negozi oggetti E fare una storia dove scioppazzate qualcosa con il mio codice Mi raccomando raga, riposto a tutti Sinereo, trattino un basso, yt Detto questo, signori Guardate cosa ha fatto Quello là Era stato intrappolato nella lava, signori Io non riesco a capire veramente Ora, un attimo Voglio arrivare qua sopra per farvi vedere Ma, raga Non riesco a capire Chi è quello? Allora, qua ovviamente non ci possa arrivare Perché c'è la lava Ma Deve parlare, non ho capito Giovanni abitanti di quest'isola È arrivata la vostra ora Preparatevi a subire dei guai seri La vostra città Era distrutta Ma Ma Era 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 rovina No No, no, no Non è possibile Cioè, raga Quello che avevamo lasciato Dentro Non ci credo Quello che era rimasto dentro Il fuoco È diventato rovina E Adesso È parte integrante del fuoco Non ci sto accretendo Cioè L'abbiamo lasciato ed è diventato No, no, no Adesso, raga Chissà quali danni potrà causare alla mappa Ci ha detto Un Un Aiuto Ci ha dato un messaggio Ha detto che la Che la mappa sarà distrutta Che Dobbiamo stare attenti Non ha detto che dobbiamo stare attenti Ha detto che Verrà tutto distrutto Oddio, raga Io veramente Ha detto che per gli abitanti dell'isola è finita Adesso non ricordo bene Non c'è neanche la musica oggi Quindi vuol dire che era proprio una Era tutto tetro in pratica Va bene signori Con questo Con questa visione di questo palasso Cioè Guardate cosa ha fatto È diventato tutto Fuoco E continuerà a diventarlo Io ho paura che ci diventi tutta la mappa E anche il calendario dell'avvento Va bene signori Ci vediamo domani alle 18 Con il 19esimo episodio Ciao Ciao